Vi do appuntamento a domani mattina dalle 7.30 alle 9.30 con Italia Buongiorno, insieme ai miei compagni di viaggio Antonio Milazzo e Serena Baldacci. Grazie a Salvatore e a Massimo. Nel pomeriggio dalle 12 alle 15 in diretta su Rai Isorati. Colonia a chilometro 75, attenzione anche agli incidenti. Vi aspetto, non mancate.